Ciao a tutti, sono Alessandra, product expert Jeep per la Maldarizia Automotive e oggi vi porto la scoperta di nuova Jeep Renegade, il SUV americano in veste di ibrido leggero. Partiamo con una soluzione inedita sul mercato, e-hybrid, l'evoluzione del motore, con una batteria da 48V che si autoricarica, in frenata e in decelerazione. Puoi anche viaggiare in modalità furoelettrica a bassa velocità, in prima e in retromarcia, grazie al piccolo motore elettrico che offre un motore ruote anche quando il motore benzina è spento. Sotto il cofono anteriore troviamo un motore 1.5 turbo benzina 4 cilindri, sovralimentato da un turbocompressore, capace di erogare fino a 130 CV e 240 Nm di coppia. Esteticamente resta fedele al gusto degli appassionati Jeep, ma a cambiare sono i dettagli. Barre al tetto nere, calotte e specchietti a contrasto, cristalli oscurati, cerchi da 17 pollici black, vernice bicolore e navigatore da 8.4 pollici. E inediti sono gli inserti sulla griglia a sette feritorie in bronzo metachrome. Inoltre il nuovo powertrain è in grado di ridurre del 15% i consumi e le emissioni di CO2 rispetto ai precedenti modelli a benzina. Siamo a bordo della nuova Jeep con l'etichetta E, perché non siamo a bordo della versione plug in hybrid, ma della versione hybrid. Ho riscontrato 17 km al litro di media, ma ho toccato anche punte 24-25 km al litro. Tra le altre cose che secondo me sono molto interessanti, che insomma mi sono piaciute, sono la comodità a bordo, belli sedili che sono ricavati dal riciclo delle bottiglie di plastica recuperate dal mare e tanto spazio sia per chi sta seduto dietro. Motore 1.5 turbo benzina da 130 cavalli che in accoppiata al motore elettrico che si trova, ripeto, all'interno del cambio è un bel mix tra prestazione, rispetto per l'ambiente e soprattutto consumi, perché i consumi sono davvero molto interessanti per quello che è la macchina, secondo me molto propensa all'utilizzo cittadino. Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo nei nostri showroom e su maldarizzi.com Grazie a tutti!